Andiamo nel 1997, praticamente 20 anni fa. Beh, è l'anno dell'esordio di Missy Elliot. Senza Missy Elliot la scena rap non sarebbe quella che è oggi. Lei se ne usciva nel 1997 con The Rain, il primo suo pezzo estratto dall'album Super Dupa Fly. La canzone non è subito un successo commerciale, però i critici e gli addetti ai lavori hanno iniziato a dire ma questa chi è? Cioè ma questa che produzioni ha? Era Timbaland il produttore. Che video fa? Era Ip Williams il regista del video. Era diversa da tutto quello che si era visto fino a prima e stava nascendo una grande stella che poi avrebbe influenzato tutto il sistema del music business e tutta la musica rap.